Musica Ben trovati a tutti ad una nuova edizione del nostro 15 minuti con l'approfondimento culturale, sociale e politico di Giulie Italia. Oggi siamo in compagnia di Angelo Ferrillo, www.laterradeifuochi.it, uno dei personaggi diciamo storici della Terra dei Fuochi, di che si sta occupando proprio di questo problema. Siccome siamo ad un anno da quando lo Stato si è cominciato ad occupare di questo fenomeno, la Terra dei Fuochi da una parte, la Terra inquinata dall'altra, come sostiene il professor Marfai, la dico giusto Angelo? Sì. Siccome è passato un anno, dopo un anno la Prefettura ha voluto fare un poco il punto sulla situazione. Ed è proprio in Prefettura che c'è stato diciamo uno scontro inatteso, proprio tra le associazioni che si sono occupate della Terra dei Fuochi. Ma facciamo un quadro più chiaro insieme proprio ad Angelo Ferrillo. Sì, vabbè, al di là delle polemiche che ci sono state, è bene diciamo anche capire chi le ha iniziate, perché noi respingiamo qualsiasi accusa al mittente. È proprio in rispetto ai tanti cittadini che soffrono il problema che è tutt'altro lungi dall'essere risolto. Vogliamo allontanarci da queste polemiche e restare invece concentrati sui fatti, sui nostri rilievi tecnici che abbiamo fatto in Prefettura e soprattutto sulle proposte che abbiamo avanzato al tavolo istituzionale. Angelo, relativamente alla Terra dei Fuochi, tante sono state le cose dette, un po' di meno le cose fatte. In maniera particolare lo scontro tra le associazioni è una cosa che non si aspettava nessuno. Noi abbiamo visto Don Maurizio Padicello sbattere i pugni sul tavolo, prendersela con ognuno di voi che riguarda proprio, vi ha chiamati addirittura venduti. Perché? Ma queste sono cose veramente incomprensibili. Bisognerebbe chiederle a lui. Io sono rimasto veramente esterefatto da queste sue dichiarazioni e, ripeto, non voglio ribattere a queste polemiche, rispetisco al mittente ogni accusa e gli dico, lo invito a un confronto pubblico, qualora avesse qualcosa da dire, innanzitutto andasse a dire in procura e poi eventualmente, diciamo pubblicamente, altrimenti le sue risultano solo, diciamo, delle dichiarazioni ingiuriose della dignità degli altri. Noi non abbiamo nessun tipo di interesse, se non quello di lottare per il nostro territorio affinché ci sia un guadagno, diciamo, della nostra dignità. Perché ricordiamo, sono anni che noi siamo privati della possibilità di stare nelle nostre case. Ogni sera decine di migliaia di cittadini, sia del territorio, diciamo, di città, sia delle province tra Napoli e Caserta, si trovano costretti a chiudersi in casa, barricati nelle proprie case perché non possono respirare. Quintali e quintali tonnellate di copertoni e rifiuti speciali vengono incendiati nottetempo, maggiormente, nelle campagne a ridosso dei centri abitati e ci causano gravi rischi sia per la nostra incolumità fisica, quindi la nostra salute, sia per la sicurezza proprio di quanti vivono sul territorio. E questo è il vero problema. E invece noi abbiamo visto che per un anno è andato avanti questo teatrino istituzionale, questa sceneggiata istituzionale, dove a seguito delle dichiarazioni di un pentito si è dirottato un poco quella che è l'attenzione su un finto problema, o meglio, come hai detto tu prima, la terra dei fuochi è una questione molto complessa. Ci sono rifiuti interrati, ci sono rifiuti bruciati, ci sono praticamente le discariche, le cave e via discorrendo. Ma nell'ultimo anno, questa è una cosa che si può vedere tranquillamente da una rassegna stampa, si è fatta molta attenzione solo sui rifiuti interrati. E noi ci domandiamo perché? Perché probabilmente dietro ci sono interessi economici, interessi di fondi, milioni di euro che devono arrivare per le bonifiche, alcuni dei quali già sono partiti, e questo corrisponde a un'attenzione maggiore sia della politica sia delle parti coinvolte. Mentre il problema vero, tuttora ancora in essere, sono gli scarichi illegali che, come tu ben sai, continuano alla luce del sole e soprattutto sotto gli occhi di tutti, decine e decine di colonne di fumo nero ogni giorno si levano dal suolo contaminando l'aria dei nostri, diciamo, comprensori. Cosa che è veramente inaccettabile perché un fenomeno del genere arrega un danno immediato e diretto alla salute pubblica, ancora prima di quello potenziale causato dai rifiuti interrati. Perché? Mentre per l'inquinamento dei rifiuti interrati c'è bisogno di bypassare, cioè di entrare nella catena alimentare e quindi nell'alimentazione umana e quindi nell'organismo, ogni ruogo tossico acceso, incendiato, corrisponde a un fenomeno di inquinamento che va a intaccare direttamente la salute per inalazione. Cioè noi questa roba ce la respiriamo. Quindi a fronte di una serie di problemi, noi abbiamo individuato questo tipo di problema come un problema prioritario da affrontare e da risolvere. Mentre denunciamo che per oltre un anno, a mezzo stampa, nei convegni, nei tavoli istituzionali, si è parlato solo di rifiuti speciali, di rifiuti interrati. Come mai? Su questa situazione, diciamo, per quanto riguarda proprio i rifiuti interrati, a differenza, diciamo, dei roghi tossici, l'allarme del grande business delle bonifiche, lo aveva già lanciato l'ex procuratore napoletano Gian Domenico Lepore, su questo versante. Ma noi abbiamo anche un'altra discrepanza che riguarda proprio i dati. Ci sono dei dati che dicono che i roghi sono diminuiti adesso. È vero o, diciamo, i dati mentono sotto questo aspetto? Una prima battuta sui rifiuti interrati, prima di rispondere alla domanda. Nessuno voglia credere che noi stiamo negando che ci siano dei rifiuti interrati, un problema dei rifiuti interrati, questo è ovvio. Però quei rifiuti sono localizzati in alcune aree che già si sanno, tipo per esempio la Resit, tipo alcune cave utilizzate dai clan in passato sui quali ci sono ancora dei processi in corso. Ma questa è un'altra partita, da non confondere con quella dei roghi tossici. E qui vengo alla domanda. Per quanto riguarda il dato sulla diminuzione dei roghi, che la Prefettura va sbaglierando, diciamo, nelle conferenze stampa, noi abbiamo rilevato un'incongruenza, o quantomeno una mancanza di precisione nella statistica di rilevamento di questi dati, perché i dati, mancando degli interventi non andati a buon fine, sono parziali, per cui inattendibili. Cioè, quando i cittadini segnalano di notte, non potendo indicare precisamente il punto dove intervenire, non sempre la segnalazione va a buon fine, per cui non viene rilevata dalle statistiche. Ecco perché risultano diminuiti. Ma risultano diminuiti semplicemente perché si sono spostati dal giorno alla notte. Mentre prima non c'era attenzione delle forze dell'ordine, perché non c'è stata questa attenzione dello Stato, come appunto dicevi, è recente il fatto da un anno, oggi, essendoci appunto un'attività di giorno, loro migrano l'incendio nella notte, perché è più facile, diciamo, incendiare, è più difficile essere scoperti, è più difficile anche segnalare. Per cui, non è vero, noi contestiamo proprio questo dato. Un altro dato che contestiamo è il numero degli arresti fatti. Da quando è entrato in vigore questo decreto, ovvero dal dicembre scorso, e poi è stato convertito in legge quest'anno, l'esercito è subentrato il 7 di aprile. Ebbene, da oltre sette mesi dal decreto legge, e a più di tre mesi dall'entrata, diciamo, in vigore dell'esercito, anzi dall'utilizzo dell'esercito, ci sono stati tre arresti in flagranza di reato per quanto riguarda l'abbruciamento di rifiuti speciali in modo illegale. Allora, che significa? Che su una base di 20 segnalazioni giornaliere che noi raccogliamo attraverso il blog, invito i cittadini a guardarlo e a utilizzarlo come piattaforma per segnalare, noi denunciamo proprio questo, che la terapia somministrata è quantomeno inopportuna, cioè non sta dando frutti. Perché se tu fai 20 segnalazioni al giorno, da un lato, e poi vedi che ci sono stati tre arresti in sette mesi, capisci che tutte le altre operazioni all'atere che si stanno facendo, quali controlli aziendali, controlli fiscali, fermi, amministrativi, sanzioni e via discorrendo, non bastano perché manca un'attività di intelligence, che è quella che occorre per poi prendere questi criminali. Perché poi parliamoci chiaramente, sono persone che fanno questo in modo organizzato, non è che rispondono, diciamo, al caso. Molto probabilmente, diciamo, il fatto che si sia preso un po' sotto gamba, soprattutto in quest'ultimo periodo, il problema dei roghi tossici, dipende dal fatto che si sta pensando molto di più a monitorare la questione degli interrati, dei rifiuti interrati, probabilmente. E' certo, perché lì ci sono i soldi per intervenire, però a noi questo, diciamo, ci sembra più un'operazione di maquillaggi, per far capire un po' alla popolazione, per far vedere, per far credere. Guardate, noi stiamo attenzionando il problema, ci stiamo adoperando, però intanto la gente vede che i roghi continuano. Quindi le persone si chiedono, scusate, ma a che serve far vedere che voi state bonificando un terreno, un territorio, quando poi l'inquinamento vero e proprio continua? Gli scarichi continuano? Gli incendi continuano? Allora questi soldi servono solo per lucrare sulle bonifiche? Ancora di più, gli screening, ben ben hanno gli screening, cioè nessuno dice che non si deve fare la prevenzione secondaria, ma qui si parla di prevenzione primaria, dobbiamo rimuovere le cause dell'inquinamento, e quindi delle patologie, delle potenziali patologie. Se noi facciamo vedere a una popolazione che stiamo facendo gli screening, e poi i roghi tossici continuano, e la gente deve continuare a stare chiusa, barricata nelle case tutte le sere, allora noi che cosa stiamo trasferendo all'opinione pubblica? Un'immagine assolutamente fallimentale di tutto quello che è stato messo in campo, che è stato fatto e che è stato detto, quindi ancora una volta denunciamo fiumi di parole, fiumi di iniziative, però fatti concreti, a quanto pare ancora nulla. Angelo, per chiudere il cerchio, l'associazione che tu presiedi ha scritto una lettera al governatore Caldoro chiedendo cosa? Allora, noi questa lettera l'abbiamo scritta in seguito a diversi passaggi fatti in questi anni, la recente normativa entrata in vigore proprio con i decreti legge nazionale, la legge regionale della regione Campania, il patto della terra dei fuochi, un patto interministeriale, sottoscritto tra vari enti antilocali, forze di polizia e soprattutto la regione, prevede l'impiego proprio della cittadinanza attiva, delle associazioni. Allora, noi avendo un'associazione, diciamo, con una struttura appunto di un blog che costituisce, volendo sostanzialmente, una centrale di allertamento, abbiamo proposto proprio un progetto di sentinelle per la terra dei fuochi, un progetto assolutamente volontario, ovvero l'istituzione di un registro presso la prefettura che ci dia la possibilità di fare delle segnalazioni certificate, ovvero prendere le segnalazioni del blog e farle corrispondere a una chiamata, diciamo, di intervento diretto. Quindi vogliamo un numero dedicato di intervento attraverso il quale i cittadini, per esempio la sera, avendo un problema, diciamo, e non avendolo a chi segnalare, possono chiamare questo numero e pretendere un intervento immediato, perché molte volte c'è lo scaricabarile tra i vigili del fuoco e i carabinieri. Giustamente se ci sta un atto criminale in progresso, non è che debbano intervenire solo i vigili del fuoco, c'è bisogno di una battuglia della polizia, dei carabinieri, della provinciale, dell'esercito, chi per essi è disponibile al momento che intervenga immediatamente per prevenire un reato che si sta consumando, che si è già consumato. Quindi intervenire su quel reato, magari, fermando i criminali, facendo operazioni di appostamento, segnalazioni e via discorrendo. Quindi la nostra richiesta al Presidente Caldor è proprio in funzione del fatto che non possiamo rivolgerci ai singoli comuni, perché la normativa prevede, diciamo, questo fatto qui. Però ogni comune ci risponde in modo diverso. Capirai che se sono 57 comuni, si va veramente, diciamo, al manicomio. Stiamo in chiusura e, diciamo, per chiudere definitivamente il cerchio, vediamo un attimo quali sono poi le azioni che voi, come associazione, vorrete intraprendere in un prossimo futuro. Ma noi come proposte ne abbiamo fatte veramente tante. Sul tavolo ci sono proposte che vanno non solo nell'ordine della repressione, della prevenzione, diciamo, nell'immediato, nell'ordine della sicurezza pubblica, ma soprattutto le proposte politiche per quanto riguarda l'emersione del sommerso, perché fondamentalmente questo è un problema di natura economica, non come qualcuno ha fatto credere di ordine sanitario, perché ancora prima della potenziale patologia che si sviluppa a seguito di questo inquinamento, noi dobbiamo ricordare che c'è tutto un settore economico che non può più produrre in modo illegale, in modo abusivo, per cui noi dobbiamo fare in modo che si vada a monte di questa catena, a monte di questo problema, per chiudere i rubinetti in modo tale da interrompere questo flusso di rifiuti speciali che deve essere smaltito illegalmente, quindi una delle tante nostre proposte è quella di fare incentivi all'emersione del sommerso, la defiscalizzazione, la fiscalità di vantaggio, queste sono ovviamente misure che competono al governo nazionale, al governo centrale, non solo alla regione campania, per quanto riguarda la quota delle tasse dell'IRAP e via discorrendo, ma in ogni modo sono proposte che stanno là da anni e non capiamo per quale motivo si continua a girare attorno ai problemi, si continuano a fare queste passerelle politiche, tra poco verrà Renzi, noi abbiamo fatto un appello a Renzi oltre a venire in visita privata, lo invitiamo a fare una visita che abbia una dignità istituzionale e che quindi sia coinvolgente delle varie istituzioni, i vari attori del territorio, in modo tale da venire con delle proposte concrete, lui adesso è capo del governo, non è più un segretario di partito o un politico qualsiasi in campagna elettorale, quindi questo è l'appello che lanciamo. Chiudiamo la nostra puntata proprio con questo auspicio che Renzi possa ovviamente visitare la Terra dei Fuochi, capire quali sono le circostanze di vita nella quale vivono e agiscono migliaia e migliaia di persone. Ringraziamo Angelo Ferrillo per essere stato qui con noi, www.laterradeifuochi.it monitoraggio continuo proprio sul problema, ringraziamo ovviamente tutti voi per averci preferiti e alla prossima puntata. Grazie a voi. Grazie a voi.